E lo si fa con il digitale. Oggi sembra anche questa una parola, una grande dichiarazione di realtà, la comunicazione viaggia veloce e bisogna assolutamente cavacare questa opportunità, la ritengo un'opportunità. Il digitale vuol dire tutto, vuol dire niente, vuol dire anche social network. In Facebook è forse l'unico modo per poter parlare con i dirigenti d'azienda che diversamente non hanno mai tempo su una riunione. Hanno terenemente riunioni a destra e a sinistra. Però lo trovo in Facebook, lo trovo in LinkedIn. Questo è il digitale, è la nuova dimensione del business. Noi lanciamo questa sfida e lo vogliamo annunciare a questo evento di Pordenone. Ringrazio ancora Pordenone e la gente fiera e tutti coloro che hanno contribuito a poter sviluppare questo appuntamento. Io non vorrei avviarvi con altre cose.